Un backup completo per chiarire le cause della fuga di gas a Argon dall'impianto antincendio che lo scorso 20 settembre aveva ucciso i due dipendenti dell'archivio di Stato, Piero Bruni e Filippo Bagni. L'accertamento è stato eseguito ieri pomeriggio, dopo che la procura di Arezzo aveva affidato l'incarico al consulente informatico Venerino Locicero, considerato uno dei massimi esperti del settore. Tutti i dati presenti nella centralina dell'archivio adesso sono stati così scaricati e salvati. L'obiettivo è quello di analizzarli per poter capire se quella mattina tutto fosse funzionante, ma anche per evitare che i dati relativi alle ore precedenti e successive alla tragedia si perdessero. L'accertamento è stato svolta la presenza dei legali di tutte le parti. La procura di Arezzo aveva aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato contestata dalla PM Laura Taddei è quella di omicidio colposo plurimo. Cinque le persone iscritte nel registro degli indagati, il direttore dell'archivio Claudio Saviotti, il responsabile della ditta di manutenzione Remas Maurizio Morelli, il legale rappresentante di una ditta retina a cui era stata assegnata un'altra parte della manutenzione ed infine due tecnici di una società esterna che cura i piani di sicurezza degli edifici per il Ministero dei Beni Culturali. Nei prossimi giorni infine il PM affiderà l'incarico per una nuova perizia tecnica.